Buonasera, sono Mario Boranga, a nome del comitato organizzatore di Pordenone Pensa, vi do il benvenuto a questa serata di Pordenone Pensa in giallo. Psichiatra, criminologo, scrittore di successo, ha di recente vinto un Italian Podcast Award per il miglior podcast sullo scrimine e con noi questa sera Massimo Picozzi. Grazie di essere qui. Lascia lui il palco e a voi auguro buon ascolto. Grazie Mario, grazie a voi per essere qui questa sera. Sì, diciamo che daremo un'occhiata un po' ad alcuni delitti storici e ne approfitteremo anche per avere un po' uno spaccato dei tempi. Vi anticipo subito che naturalmente la scoperta che faremo è che nulla di nuovo ha sotto il sole. I delitti di un tempo sono esattamente quelli che si riproducono nell'attualità. Abbiamo voluto insieme al mio socio oramai, l'anno prossimo, facciamo vent'anni di società, io e Carlo Lucarelli, che conoscerete senz'altro perché è uno dei più bravi giallisti oltre che l'inventore di alcune trasmissioni televisive come Blu Notte, come Mistero in Blu, insuperate secondo me. Abbiamo deciso di raccontare un po' la storia dell'omicidio da Caino e Abele ad oggi. Il primo podcast, il primo libro è uscito, si chiama Nero come il sangue, ha raccontato la storia degli ultimi due secoli. Abbiamo diviso praticamente la storia in le quattro epoche, la contemporanea, la moderna, il medioevo e l'etantica. Abbiamo fatto i primi due, abbiamo realizzato i primi due, sono usciti nelle versioni podcast, la prima ha vinto il premio per il podcast più ascoltato lo scorso anno, adesso è uscita da poco il secondo volume che si chiama Nero come l'anima, il libro uscirà a settembre e poi di lì in avanti arriveremo a chiudere i cerchi e a cominciare appunto. Da Caino Abele che io cito sempre come un caso assolutamente falsato per i giallisti perché naturalmente voi ricorderete che l'investigatore nel caso di Caino Abele barava in maniera assolutamente abbarato. Quando chi ha chiesto a Caino dove fosse suo fratello, l'investigatore sapeva benissimo la verità e quindi poteva anche tranquillamente, ma le voleva fare scena. Stasera vi racconterò di tre storie, farò dei cenni anche perché sono già contenuti in questo podcast. Sapete cosa sono i podcast? Sono probabilmente il futuro, perché sono formule, forme di intrattenimento basate sul fatto appunto che vengono raccontate storie, vengono ascoltate attraverso la radio, scaricate attraverso i device e sono il futuro perché naturalmente tutti noi ci troviamo spesso e volentieri incastrati in code automobilistiche assolutamente e approfittare di contenuti intelligenti è senz'altro il futuro. Poi con la pandemia Covid c'è stato un incremento assolutamente di ascolti. Io ho scoperto ad esempio che riuscire a raccontare bene delle storie significa mettere te stesso e l'ascoltatore sotto una specie di bolla, per cui in realtà è un artificio ma è come se io che sto registrando parlassi direttamente con la persona che mi sta ascoltando. Tre racconti, tutti nel 600 circa, la seconda metà del 600. Il primo è dedicato a Giulia Tofana che naturalmente molti di voi non conosceranno. Giulia Tofana è stata la più celebre serial killer della storia nazionale, che poi vuol dire mondiale perché naturalmente la storia degli altri paesi è assai più recente della nostra. Giulia Tofana, l'avvelenatrice, poi parleremo della monaca di Monza di cui tutti abbiamo sentito nominare ma secondo me non tutti sappiamo la storia sua ed è presunto fidanzato Giacomo Osio che era un personaggio incredibile e per ultimo poi la storia di Marcantonio Bragadin che è quella che personalmente preferisco Marcantonio Bragadin condottiero veneziano coinvolto nella lotta contro l'impero turco e tutte e tre sono storie incredibili, la prima delle quali, ecco, partiamo da questa questa è Marcantonio Bragadin. Allora voi dovete immaginare questa cosa siamo verso la fine, seconda metà del Cinquecento un altro mistero siamo alla fine del Cinquecento e Solimano il Magnifico decide di espandersi con l'impero turco l'impero ottomano e conquistare sempre nuovi territori sia alla vigilia della battaglia contro una delle città più importanti dell'Ungheria quando Solimano il Magnifico rimane nella sua tenda a meditare che tipo di strategia utilizzare però non si muove allora il suo attendente lo chiama ma Solimano proprio non si schioda con grande titubanza si avvicinano i suoi fedeli seguaci lo scrollano e scoprono che Solimano il Magnifico è morto, secco, stecchito probabilmente colpito da un ictus soltanto che non si può dire alla vigilia della battaglia e quindi viene tutto tenuto coperto finché la battaglia viene combattuta viene vinta dagli ottomani quindi avremo Solimano il Magnifico che come ultima sua grande impresa vincerà una battaglia da morto erede di Solimano il Magnifico che viene riportato dall'Ungheria a Costantinopoli con tutti gli onori erede a un certo Selim II che è il figlio che si ritrova a essere il capo dell'impero ottomano suo malgrado che non ne frega assolutamente nulla ha un harem esterminato una favorita dell'harem che è di origini veneziane e quindi lui dice benissimo consiglieri voi mi dite che dobbiamo continuare la politica di espansione contro Venezia soprattutto perché mio padre stava riuscendo nell'impresa di allargare l'impero ottomano fate quello che volete cioè Mustafa Pasha che è stato il mio tutore quando ero piccolo tant'è vero che lo chiama Lala a me basta soltanto che mi lasciate in pace così fanno e a un certo punto cominciano a avanzare pretese gli ottomani con gli ambasciatori veneti e a sostenere che Cipro è un'isola che appartiene ai turchi naturalmente ne sorgono delle dispute diplomatiche per Venezia non è assolutamente vero oltretutto Cipro è passata anche come possedimento per qualche decennio sotto il controllo di Riccardo Cordileone quello di Robin Hood che a differenza di Robin Hood Riccardo Cordileone è esistito fanno questa grande battaglia diplomatica non se ne viene a capo e a un certo punto però la Repubblica Serenissima capisce che l'impero ottomano sta per attaccare Cipro e allora mandano prima c'era mi pare che si chiamasse Enrico Dandolo e l'ambasciatore assolutamente uno sfaccendato per bilanciare le forze in campo decidono di mandare Marcantonio Bragadine che è un condottiero d'armi con lo scopo di valutare le difese di Cipro e di organizzare le migliori difese possibili Nicosia è ben fortificata mentre invece l'altra città più importante insieme a Limassol di Cipro che è Famagosta è un disastro per cui arriva Bragadine e comincia a rinforzare le mura di Cinta a raccogliere provviste per prepararsi a un lungo assedio sta di fatto che per circa 11 mesi Famagosta che è una piccola città riesce a reggere l'assalto dell'impero ottomano delle truppe ottomane alla fine scavano anche una fossa sotto il muro di Cinta la zeppano di esplosivo fanno saltare le mura dall'interno ma non riescono assolutamente a debillare le forze difese da Marcantonio Bragadine il quale ne fa di tutte cioè manda lettere ogni giorno a Venezia pregando anche il Doge di intervenire dice se il Doge si facesse vedere anche da lontano dalle coste Cipriote a questo punto darebbe una tal spinta una tal carica emotiva che noi riusciremmo anche ad avere la meglio dei turchi naturalmente il Doge gli risponde dicendo quanto è bravo Bragadine quanto è forte Bragadine quanto è figo Bragadine però quanto ha rinforzi grazie facciamo un'altra volta dopo 11 mesi d'assalto Famagosta cede e a questo punto Bragadine che cosa fa negli ultimi quattro giorni della resistenza organizza la fuga l'espatrio di tutti i civili quindi va su e giù dal porto di Famagosta cercando di stipare qualunque imbarcazione con i civili e poi si reca da Mustafa Pasha i due all'inizio hanno una conversazione assolutamente amichevole si mettono a discutere delle strategie che hanno messo in atto uno per attaccare e uno per resistere sembrano due grandi amiconi due compagni due condottieri che si stimano fino al punto in cui però Mustafa Pasha dice ma io so però che tu hai stipato le navi con dei rifugiati con i civili eccetera cosa pensi di darmi in cambio naturalmente Bragadine che è uomo tranquillo saggio però fino a un certo punto capace di cedere alle pressioni diceva in fin dei conti io lo mettevo un po' nel patteggiamento cioè i civili non c'entrano assolutamente nulla e quindi io e a questo punto Mustafa Pasha cambia completamente il suo atteggiamento si mette a sbraitare che Bragadine è responsabile della morte dell'uccisione di moltissimi soldati turchi cosa che assolutamente non è vero e improvvisamente poi chiede a Bragadine di poter avere come schiavo l'attendente un po' efebico che è Marcantonio Bragadine su cui Marcantonio Bragadine conta moltissimo la richiesta è ovviamente una richiesta a sfondo sessuale e alla cui Bragadine reagisce assolutamente in malo modo e allora viene immediatamente bloccato lui e i suoi uomini ve la faccio abbastanza breve perché naturalmente la storia della tortura non è qualcosa di divertente ma viene comunque torturato e alla fine si sceglie Mustafa Pasha sceglie di utilizzare una particolare forma di tortura cioè in pratica Bragadine viene scuoiato non so chi di voi mai sia passato dalle parti del Duomo di Milano ma già nel Duomo di Milano esiste una una statua di San Bartolomeo mi pare che sia o San Sebastiano o San Bartolomeo che è completamente spelato è stato martirizzato scorticandolo è un capolavoro di arte di incisione perché i muscoli le ossa le vene si vedono in maniera straordinaria e dai milanesi è stato scelto eletto patrono dei milanesi tassati nel senso che sottotitolo ti togono la pelle di dosso è stato preso e c'è lì nella navata di destra c'è questa statua Marco Antonio Bragadine ha la stessa sorte ma in più a un certo punto Mustafa Pasha decide di fare qualcosa che va oltre naturalmente Bragadine muore prima che il compito dei torturatori abbia fine perché evidentemente il dolore lo shock era troppo insopportabile decide di riempire la pelle di Bragadine di paglia di mettere quest'uomo questo ex condottiero questo ex uomo ad orso di un cavallo e di fare una sorta di processione e tutti gli abitanti di Famagosta sentono questo rullare di tamburi vedono questo incedere questi soldati turchi e al centro questo cavallo su cui ingroppa c'è la figura che indossa poi gli abiti di Bragadine ha anche il suo ombrello per pararsi dal troppo sole e quindi i cittadini di Famagosta e i ciprioti esultano perché sono convinti che il loro comandante alla fine sia stato così eroico di aver avuto la vita salvata e di essere addirittura avuto anche il permesso di poter avanzare in processione soltanto che quando si scordano si scoprono che naturalmente così non è cadono in fortissima depressione la storia finirebbe qui se non che io l'ho trovata di tutte quelle che ho raccontato poi vi dirò un pochino anche l'impianto del libro che uscirà fra poco e di tutto il lavoro se non che secondo me c'è una seconda parte che è straordinaria questo è Girolamo Polidoro non Marco Antonio Bragadin era l'attendente di Bragadin quando Famagosta viene conquistata Polidoro viene mandato preso catturato mandato come schiavo a Costantinopoli ci lavora cinque anni naturalmente possiamo soltanto immaginare che cosa gli abbiano raccontato per sbeffeggiarlo raccontandogli appunto della fine del suo grande condottiero di cui era attendente cerca anche di scappare un paio di volte lo ripigliano lo tirano giù ammazzate naturalmente un bel giorno sono passati cinque anni passa davanti all'arsenale di Costantinopoli dove non l'aveva mai notato ma vede che davanti a uno degli hangar dei capannoni ci sono almeno una decina di guardie mentre gli altri capannoni dell'arsenale non sono al massimo una guardia soltanto all'uscio di ingresso siccome sono passati cinque anni lui per cinque anni ha lavorato in quel luogo si è fatto qualche amico e quindi chiede cosa ci sia di così prezioso da nascondere in quell'hangar da meritarsi una guardia armata così infitta e la risposta è un po' interlocutoria gli rispondono che è il bottino di famagosta che cosa pensa Polidoro Polidoro pensa adesso io cercherò di entrare in quell'hangar mi riprenderò il bottino di famagosta che tra le altre cose non è il bottino di famagosta perché è roba mia io abitavo a famagosta quindi gli ottomani l'hanno rubato a me non è che io vado a rubare a loro e con questo sicuramente troverò il modo di pagarmi la libertà e di ritornare a Venezia per cui entra pagando una guardia entra in questo capannone trova questo scrigno che è diverso da tutti gli altri non particolarmente pregiato di fattura ma comunque diverso e aspettandosi di trovare oro monete e preziosi apre lo scrigno e ci ritrova la pelle di Bragadini anzi il fantoccio di Bragadini naturalmente rimane scioccato arrivano le guardie e lui si nasconde in un angolo mentre nascosto rimane nascosto tutta la notte e poi ha una pensata ci ritorna la mattina successiva rimane anche lì nascosto tutto il giorno e poi che cosa fa apre lo scrigno toglie tutta la paglia dal manichino di Marcantonio Bragadini e a un certo punto si ritrova con una sorta di abito in pelle oramai conciata da cinque anni di conservazione e di punto in bianco pensa ma io come posso fare a scappare di qui perché naturalmente non posso uscirmene con sotto braccio un fagotto toglie la paglia e si denuda completamente e indossa il suo ex comandante quindi sopra se stesso mette la pelle di Bragadini si riveste di abiti normali e se ne esce dall'angar purtroppo la storia finisce fino a un certo punto bene perché lui si reca dal nuovo governatore veneziano perché nel frattempo turchi e veneziane avevano fatto un po' la pace e si sfila la pelle di Bragadini naturalmente c'è una scena assolutamente comunemente descritta negli annali storici in cui il nuovo governatore praticamente si mette a piangere perché per loro Bragadini era un eroe era una sorta di martire è stato un martire della cristianità contro l'impero ottomano per cui viene ricondotto in patria questa cosa se volete se passate da Venezia in una chiesetta che adesso non ricordo ma l'abbiamo scritta nel libro dal 1579-80 in quella chiesetta viene conservata la pelle di Marco Antonio Bragadini lui torna con il compenso che gli ha dato il governatore però si fa beccare mentre passa una parte dei soldi al suo complice per cui viene assolutamente torturato in maniera prima vi dicevo dell'essere scorticati come una cosa terribile in realtà la pena di tortura più utilizzata nei secoli che vanno dall'impero romano fino al 1600-1700 era la tortura della ruota praticamente cosa accadeva che qualunque condannato veniva legato con le mani dietro la schiena le mani venivano legate a una corda che passava da una carrucola e il tizio veniva issato quindi tutto il peso veniva a essere caricato sulle articolazioni naturalmente le articolazioni erano messe in gran tensione e quando la persona che tutto poggiava sulle spalle veniva portata a una certa altezza a un metro o due metri la corda veniva immediatamente lasciata improvvisamente per poi essere ripresa per cui il discorso è che si laceravano le articolazioni delle spalle ed era la cosa più semplice ma naturalmente è inutile che vi dica diffusa a ovest al centro dagli ottomani con Polidoro alla santa inquisizione con qualunque eretico ritenuto tale lui subirà la tortura della ruota riuscirà comunque a sopravvivere ben che meno mato e andrà poi più tardi dall'ambasciatore nuovo ambasciatore veneto chiedendo 15 ducati o sesterzi di rendita annua per i benefici concessi alla sua patria e per tutto quello che aveva sacrificato e Polidoro si sentirà rispondere bravo 15 sesterzi gran bella somma te ne diamo 5 e accontentati e questa è la storia di Marcantonio Bragadin e di Gironomo Polidoro di cui magari Bragadin potrete anche averlo sentito ecco tenete conto che il suo nome è famoso a noi che abbiamo studiato un po' di storia tanti anni fa perché la resistenza di famagosta dei 10-11 mesi permette a Papa Pio V di organizzare la Lega Santa che è una flotta e quella flotta strepitosa che poi vincerà la battaglia di Lepanto e quindi con la battaglia di Lepanto ci potremmo permettere poi la possibilità che l'impero ottomano venga stoppato e le sue mire espansionistiche bloccate c'è un'ultima storia noi abbiamo fatto come dicevo prima questo podcast con Carlo Lucarelli siamo andati anche a registrare i trailer a Pavia in una vecchia struttura che è il collegio Ghislieri che è il più antico collegio d'Europa e lì siamo entrati in una stanza e naturalmente abbiamo beccato la stanza di Pio V e della battaglia di Lepanto perché la storia narra anche questa cosa per cui Pio V anche per questa vicenda fu poi santificato a un certo punto sta per combattersi la battaglia di Lepanto e Pio V si raccoglie in preghiera aveva rilanciato anche una moda tra virgolette scusate per nulla offensivo la moda del rosario cioè era qualcosa che era andato in disuso lui lo ha recuperato per cui si era ritirato nei suoi palazzi mettendosi a terra in ginocchio la fronte sul pavimento declamando e recitando il rosario in continuazione ma a un certo punto aveva chiesto al suo aiutante di tirare le tende nei palazzi vaticani perché a un certo punto temeva di essere disturbato dalla luce del sole che lo avrebbe colpito e distratto mentre lui era in preghiera improvvisamente vedeva una grande luce le tende che si scostano ma non sono le tende che si scostano è un angelo che è entrato nella sua stanza e che ha aperto le tende di pesante velluto e con l'altra mano gli ha indicato di farsi appresso di guardare che cosa succedeva davanti alle stanze vaticane naturalmente davanti alle stanze vaticane non esisteva il mare greco in cui si stava combattendo la battaglia di Lepanto ma questo è quello che vede Papa Pio V vede la vittoria delle armate cristiane contro quelle turche in tempo reale cioè viene a sapere e poi dirà a tutti quello che è stata la sua visione esattamente nel momento in cui accadeva e da quel giorno per quel giorno per Papa Pio V che diventerà santo in quel giorno è il giorno di Santa Maria della Vittoria quindi questa è la storia di come un condottiero di una battaglia in realtà abbiano nascosto del retroscena io personalmente e anche Carlo abbiamo trovato questa idea di Girolamo Polidoro di dire come faccio a scappare di qua portandomi via il mio fidato condottiero se non indossandolo e quindi l'abbiamo raccontata per questo abbiamo cominciato vi dicevo a raccontare storie Dice dal momento contemporaneo andando indietro nei secoli ma anche le storie che abbiamo raccontato il nero come sangue che appunto ha avuto un grande successo come Potex e anche come libro è uscito per le edizioni di Solferino Corriere della Sera come gli altri che usciranno e perché siamo stati molto attenti anche sui casi più recenti a prendere casi già chiusi voi non avete idea e qui lo dico e qui lo nego delle bestiate che io sento raccontare soprattutto sui casi recenti perché va bene posso rispondere alla domanda come mai siamo tutti interessati ai casi di cronaca posso rispondere con l'unica risposta possibile anche se è imperfetta che in tutti noi c'è una parte una zona oscura che ci spaventa ecco vederla proiettata all'esterno che sia un racconto un romanzo giallo una serie televisiva ci permette di analizzare di maneggiare questa parte oscura che ci spaventa e contemporaneamente di prendere le distanze questo mi permette di aprire una parentesi poi chiudo perché mi dicono che ne apro fin troppe il primo di voi che oserà definirmi Stephen King come uno scrittore dell'horror lo uccido perché stavo pensando a chi maneggia le parti più oscure del nostro ogni volta che io perché è un indiscusso maestro Stephen King è uno forse degli scrittori più anzi sicuramente tra i viventi più bravi più capaci perché noi ci ricordiamo sempre di Shining ma ci dimentichiamo del Miglio Verde delle Ali della Libertà di Stand By Me che sono tre racconti romanzi e tre film tratti da che sono eccezionali no le bestiate che a me tocca di sentire magari anticiperò una vostra domanda però guardate che questa sicuramente la sapete per cui non dovrò commentarvela le conclusioni le tirate voi da soli cioè 2500 anni fa Euripide raccontò una storia raccontò la storia di un aitante guerriero che si chiamava Giasone che era fidanzato a una signora signorina che si chiamava Medea e Giasone era innamorato di Medea e viceversa ma per ragioni politiche chiesero a Giasone di sposarsi di maritarsi per appunto ragioni politiche quindi lui chiamò la sua amata Medea e le spiegò perché non poteva unirsi a lei ma doveva sposare un'altra donna e Medea che cosa fece allora nella traduzione di Euripide ma anche in tante altre edizioni contemporanee parliamo quindi di 2500 anni fa disse a Giasone che capiva perfettamente che l'unico suo desiderio era quello di trascorrere ancora una giornata con i due figli che aveva avuto con Giasone e naturalmente per farla pagare a Giasone ci rimisero i due figli quindi rispetto a storie che voi sentite narrare oggi sono drammatiche sono tremende sono inaccettabili ma non possiamo dire cosa è successo al genere umano perché purtroppo queste queste storie sono sempre esistite rimangono un grande enigma a me diciamo che io Carlo siamo una coppia un po' anomala perché perché lui è uno scrittore puro un narratore puro e arriva all'animo la parte nera la parte più dark che ci arriva con la capacità del narratore io ci metto un po' di esperienza però se dovessi rispondere alla vostra domanda ma tu hai sempre capito tutto l'abisso vi potrei rispondere no ogni tanto mi fermo mi fermo un po' sconcertato anch'io penso sempre rifletto sempre che il motto dell'unità di scienza del comportamento dell'FBI non so quanti di voi abbiano visto mai una puntata di Criminal Minds ma quasi tutti avete visto Il silenzio degli innocenti il capo di Jodie Foster nel silenzio degli innocenti quello che manda l'agente Starling a parlare con Hannibal in realtà che si chiama Jack Crawford nel film è la figura che nella realtà è quella di John Douglas profiler di cui hanno fatto una serie televisiva su Netflix che si chiama Mindhunter un paio di anni fa si sono inventate questa unità di ricerca sul comportamento umano e il loro motto è scruta a lungo nell'abisso e l'abisso scruterà dentro di te fa una gran scena non so neanche se loro l'abbiano utilizzata perché ci credevano o perché facevano una gran scena la frase è di Nietzsche non è loro io vi posso dire che oramai l'anno prossimo sono 40 anni che ho preso la laurea in medicina almeno 25 che faccio perizie non sempre riesco a capire quanto di male e quanto di malattia ci siano le persone andiamo avanti naturalmente questa foto secondo voi è un ritratto di è un dipinto di qui stiamo parlando di matti assassini Caravaggio non potete in realtà ne abbiamo messi dentro due di matti schianti no tre abbiamo messo dentro Caravaggio un altro peggio di Caravaggio benvenuto Cellini pluriomicida il quale raccontava bellamente che se la mattina prima di uscire non si pigliava la spada e il pugnale non si sentiva nudo perché si usciva così di casa abitualmente la mattina spada e pugnale un altro di cui abbiamo raccontato questo in realtà è stato è diventato una vittima è Philip Marlowe quello che si che è in competizione con William Shakespeare in questa annosa storia se vi sia veramente esistito William Shakespeare Marlowe anche lui una spia al servizio di Elisabetta prima poi verrà ucciso in una rissa da taverna ma probabilmente è stato eliminato perché era una spia della regina Elisabetta avanti c'ho tre storie da raccontarvi una o una volta questa è Giulia Tofana allora siamo sempre nel 1561 mi pare la regina Cristina di Svezia arriva in Italia gli fanno su un sacco di onori perché la regina Cristina di Svezia in realtà era l'ex regina Cristina di Svezia perché si era convertita al cattolicesimo da protestante per cui come sempre si è fatto in tanti contesti si è organizzato il suo tour di venuta dalla corte svedese a Roma tant'è che lei si ferma fa tappa dove tutti i festanti a Mantua piuttosto che e arriva a Roma la vigilia di Natale dove prende la notte di Natale da Papa mi pare forse Clemente VII prende tutti i sacramenti in un colpo solo soltanto che la nostra Cristina durante il suo percorso aveva conosciuto anche un tal Francesco poeta artigianale e naturalmente si era un po' invaghita di questo signore quando arriva a Roma naturalmente sono molti i romani che accorrono a vedere la nuova regina ma non soltanto la regina voglio sono curiosi anche di vedere che faccia l'accompagnatore perché naturalmente pettegoli come siamo sempre stati noi italiani ben prima del 1561 vogliono vedere e purtroppo tra il pubblico c'è anche il duca di Ceri con la moglie che è una nobile donna della famiglia Aldo Brandini anche lei però purtroppo si innamora di di questo Francesco e questo è il preambolo per raccontarvi la storia di Giulia Tofana perché a un certo punto il duca di Ceri finirà avvelenato vittima degli intrugli di Giulia Tofana che è un personaggio è stata un personaggio geniale geniale rimane vedova vedova rimane orfana di madre a pochi anni perché la mamma gliela fanno fuori perché l'hanno beccata mentre avvelenava il marito non è giusto la tradizione ma lei naturalmente raccoglie l'eredità materna non di avvelenatrice inizialmente ma quella di prostituta e però lì si dimostra un personaggio eccezionale perché innanzitutto dovete sapere che all'epoca l'arte di professare la prostituzione dipendeva ovviamente dalla peeling e questo non è cambiato ovviamente nulla ma dipendeva dalla grande conoscenza dell'arte degli speciali cioè dalla cosmetica e nella fine del cinquecento una cosa che era particolarmente apprezzata dagli uomini e questo vi dice quanto il genere maschile sia ancora totalmente deficiente come allora una cosa che faceva impazzire gli uomini era lo sguardo profondo e lontano cioè come se tu avessi davanti una donna che ti guarda con gli occhi colmi di ammirazione in realtà l'ammirazione e questo pieno di ammirazione era legato al fatto che le brave prostitute erano capaci di utilizzare un paio di gocce di atropina che si chiama anche bella donna che si chiama anche quella roba che vi mettono negli occhi quando andate dall'oculista che non vedete più una mazza per un paio d'ore perché vi dilata le pupille quindi questi occhioni fatati in realtà venivano scambiati dagli uomini ma erano poi in realtà un discorso fondamentale per queste prostitute che conoscevano perfettamente i dosaggi delle varie sostanze e sapevano esattamente quanto una piccola dose in più poteva trasformare un belletto un guento in un qualcosa di assolutamente mortale e lei a un certo punto che frequenta speciali e comincia a imparare così l'arte del dosaggio praticamente che cosa succede? Che apre una bottega a Palermo che ha un grande successo fino al giorno in cui una donna non entra chiedendogli come avere uno sguardo più profondo e ammagliatore ma gli racconta una tristissima storia di maltrattamenti familiari e la nostra Giulia Tofana erroneamente ve lo dico già anticipo diventerà un mito delle femministe perché l'interpretazione è a mali estremi estremi rimedi e poi vi dico perché è un genio è un genio innanzitutto perché utilizza dei prodotti che sono in commercio abitualmente la ricetta dell'acqua Tofana non la sappiamo sappiamo che c'era del piombo dell'arsenico e della bella donna non sappiamo i dosaggi non sono arrivati a noi soltanto che quando qualcuno entrava e cominciava a dire io non posso lamentarmi di mio marito ovviamente non posso scegliere il mio marito non posso rifiutare il mio marito il mio marito ha potere di vita di morte su di me sui miei figli se dovessi mai andare dal conestabile dall'autorità giudiziaria mi prenderebbe la calcina nel sedere se vado a lamentarmi che il mio marito mi batte mi picchia e quindi che cosa posso fare e a questa domanda Giulia Tofana dice che pensi mia e quindi si informa bene non è che sia scema sta donna cioè quando qualcuno va dentro e chiede di avere dell'acqua Tofana questa la spedisce via con delle dosi micro cioè con delle dosi cosmetiche soltanto quando ha preso delle informazioni sul fatto di potersi fidare che la persona è solvente eccetera allora dice torna qui domani e che cosa gli dà cosa dà a queste donne dà delle boccettine che produce in serie ampolle con attaccato al collo della piccola ampolla un effigie di San Nicola per cui praticamente brandizza la sua attività commerciale e in tutta Italia da quel giorno quel tipo di sostanza nella boccettina viene soprannominata soprattutto ovviamente dalle donne la manna di San Nicola capita però naturalmente che qualcuno e lei stessa Giulia Tofana consegna queste ampolle dando però delle raccomandazioni molto chiare dicendo allora poche gocce al giorno per i primi tra o quattro giorni non vedrete assolutamente nulla poi quando comincerà a fare effetto potrete anche chiamare il medico ma tanto questo dirà che è stata un'indigestione perché ormai è troppo tardi e questo lo potete seguire senza grandi problemi però attenzione la cosa difficile viene dopo voi per tutta la durata dell'agonia del vostro compagno dovete stare lì al capezzale pulendolo anche da le parti più sgradevoli di un'agonia in modo che naturalmente il vostro congiunto abbia il tempo di capire e di comprendere quanta dedizione voi abbiate nei suoi confronti ecco il motivo per cui è legata il duca di Ceri è legato a che lei poi è costretta Giulia Tofana a sfuggire a scappare da Palermo a Roma probabilmente perché una delle sue clienti colta da rabbia eccessiva anziché dare una o due gocce nella mano di San Nicola al giorno per quattro giorni gli aveva stato giuro a boccettina e questo lo raccontano le cronache mi sono portato a crederlo fino a un certo punto li ha squagliati proprio letteralmente si sono sciolti a parte morire immediatamente ma si narra che anche i becchini che portavano a ricomporre il corpo avessero avuto poi dei problemi perché mentre lo ripiegava si era sciolto si era sciolto e lei a questo punto decide di scappare e di scappare da Palermo ecco vi ho detto Napoli prima perché il problema era Bari, Napoli, Palermo c'era il brand cioè la linea di cosmetici barra Manna di San Nicola che veniva esportata lei arriva a Roma però c'è un piccolo problema che deve rifarsi tutto il giro dei fornitori e allora conosce un frate che si invaghisce di lei che gli presenta uno speziale un farmacista droghiere che ha bisogno di soldi perché ha una figlia una figlia che gli costa l'ira di Dio la figlia alla figlia fa la corte il domestico del duca di Ceri che sa che la moglie del duca di Ceri vorrebbe tanto eliminare il marito per cui ne parla parla con questo maestro della servitù il quale immediatamente va dalla duchessa e gli racconta di questa possibilità che la duchessa naturalmente sfrutta immediatamente Giulia Tofana verrà poi catturata ma non tanto per il discorso del duca di Ceri ma per il fatto che il papa stesso si accorgerà che poi improvvisamente da un certo momento storico comincia a capitare un'ecatombe di mariti un'ecatombe Giulia Tofana e qui però la prendo con le molle perché secondo me quando ti tirano su per con la ruota per le braccia di dietro se sei disposto a dire qualunque panzana ti chiedano lei però si autoaccusa di avere contribuito alla eliminazione di 600 mariti maltrattanti la rappresaglia è subito ovviamente contro le donne ci vanno di mezzo anche popolane che non c'entrano assolutamente nulla avevano avuto soltanto il torto di perdere il marito di malattia a quell'epoca a 30-35 anni era che i mariti morissero raramente di malattia insieme a Giulia Tofana l'unica altra che ci va di mezzo è la figlia giovane che era rappresentante dell'azienda materna per le famiglie più aristocratiche e ci va di mezzo perché in realtà si era conquistata la fama la fama di veggente spiritrice medium perché a lei si rivolgevano anche molte persone che avevano smarrito oggetti e lei riusciva a farli ritrovare almeno questo era stato il trucco che aveva utilizzato se non che naturalmente il trucco si basava sulla presenza di un'altra complice tal Giovanna che prima fregava il gioiello e dopodiché naturalmente permetteva la tizia la figlia di Giulia Tofana tutta la famiglia Tofana va al creatore le popolane finiscono anche loro murate ma a un certo punto arriva un ordine superiore perché madame Aldobrandini ex moglie del duca di Ceri comunque appartiene a una famiglia assolutamente nobile e quando arrivano nelle stanze vaticane più alte a dire andiamo avanti con l'idagine sui mariti fatti fuori con il veleno gli arriva un bello no stop anche no grazie cosa succederà poi alla ducessa di Ceri con il suo Francesco che aveva conteso alla regina Cristina di Svezia succederà che praticamente si sposeranno i due dopo dieci anni lui cercherà di fare evadere lei ovunque il papa si arrabbierà lo condenerà al confino ma dieci anni dopo la vicenda i due si sposeranno la cosa curiosa e chiudo anche la seconda storia è che uno storico di un paio di secoli dopo riporterà che la ducessa di Ceri con il nuovo marito faranno appello al nuovo papa perché costringa la loro figliuola a sposare chi dicono loro perché il nuovo pretendente non gli piace lo storico due secoli dopo dirà che strana roba questa ha rotto le balle a mezza Europa per dieci anni con la loro storia hanno fatto ammazzare avvelenate e adesso che tocca loro la cosa è finita così e questa è l'acqua a Tofana o la manna di San Nicola ultima ultima ma non ultima non sto a tediarvi con la descrizione che Manzoni fa della monaca di Monza non sto a tediarvi perché mi invito veramente ad andare a leggere perché sono una mezza paginetta che è un ritratto da profiler strepitoso Mariana Deleiva nasce dal conte di Monza per cui sono i proprietari della città i feudatari della città di Monza la mamma lascia Mariana Deleiva orfana ad appena un anno il padre prima decide di trovare un buon marito per quella che diventerà la monaca di Monza poi cambia idea e dice no vabbè possiamo destinarla all'abito talare all'abito religioso e a 13 anni versa la cifra pattuita nelle casse del convento di Monza e a 16 anni Mariana Deleiva diventa Suor Virginia Maria perché prende il nome della madre che era mancata quando lei aveva un anno diciamo che tutto sommato quando a 16 anni prende i voti è un po' incerta sul suo futuro perché da un lato significa rinunciare alla vita terrena dall'altra però per una persona che arrivava da una famiglia ricca e nobile e entrava in un convento c'era la possibilità di far carriera di diventare addirittura la badessa del convento di Monza e quindi con tutta una serie di privilegi passa nei primi anni e lei però comincia un pochino a stufarsi tranne che di una cosa la nominano responsabile delle educande del convento e questa cosa le fa molto piacere ma soprattutto adesso lei ha 17-18 anni quello che che la disturba è il fatto che queste ragazze le raccontano di emozioni di passione e questo risveglia un po' in lei tutto quello che non era riuscito a vivere il patatrac succede quando un certo Giacomo Osio di questa famiglia Osio monzese si mette a corteggiare una novizia la casa della famiglia Osio era attaccata al convento di Monza per cui lei che è comunque diventata è un pezzo grosso perché pur sempre la contessa di Monza quando vede questo uomo che corteggia in maniera spudorata la sua novizia va su tutte le furie lo manda via male parole ma lo insulta a tal punto che naturalmente il nostro Giacomo fa quello che poi farà per tutta la vita il primo tizio che incontra che è al servizio del convento lo secca via così perché in realtà la famiglia Osio forse vissuta qualche secolo dopo sarebbe rientrata in qualche volume di Lombroso perché in realtà se non era un cugino era un fratello ne avevano combinate peggio di Bertoldo quelle cose che poi probabilmente Manzoni riprenderà con i bravi cioè tipo uccidere qualcuno perché non ti cede la destra quelle cose che ancora ricordiamo quindi ordina che l'Osio venga ordina come responsabile come duchessa di Monza come quindi responsabile anche giuridico giudiziaria della cittadina che l'Osio venga allontanato torturato poi carcerato Osio scappa naturalmente ma poi rientra a Monza perché sua madre è amica dell'Abadessa e quindi se la monaca Virginia Maria non ci sente tanto a perdonarlo deve comunque accettare ciò che dice l'Abadessa e quindi Ob Tortocollo lo fa accetta di perdonarlo lei lui lo vede anche in un momento così casuale e le chiede molto garbatamente se può permettersi di scriverla in una lettera naturalmente la lettera è stata poi cancellata dagli annali perché era pesantina quanto ad avance e a questo punto la monaca si offende ancora di più o forse si innamora perdutamente perché il dubbio è quello che i modi assolutamente maleducati di Osio trasgressivi poi comunque in ogni caso teniamo conto che uno era di famiglia aristocatica ma lei era una duchessa non una contessa e comunque era una non so se vice badessa o qualcosa del genere quindi in realtà non ci si poteva permettere di rivolgersi a un tal personaggio in quella maniera sta di fatto che comunque pian piano le cose finiscono come sapete come immaginate e suora Virginia Maria Maria Virginia rimane incinta di una prima bimba che viene che nasce morta per cui Virginia che cosa fa piglia questa situazione la interpreta come una punizione del Signore e per circa un anno non si alza più dal letto Giacomo Osio cerca di fare di tutto per convincerla a ritornare nel suo letto per scopi ovviamente egoistici ci impiega due anni e dopo due anni suor Virginia rimane incinta di una secondo bambino Osio fa il suo riconosce la bambina la fa prendere la mette a baglia spesso Virginia esce dal convento perché poi c'è una porta comunicante trascorre delle giornate delle nottate con il suo amante con la bambina a giocare come una famiglia normale quella che non aveva mai avuto e che peraltro non avrà non avrà mai succede poi che una certa invece suor Caterina diventi la persona di fiducia di suor Virginia e a lei racconti tutto Caterina però a questo punto decide di vuotare il sacco con il vescovo di Milano e ricatta tutti Giacomo Osio allora pretende di vederla e naturalmente la uccide sarà la prima di tante uccisioni ci sono altre due suore che stanno accanto alla monaca di Monza ma anche loro naturalmente diventeranno delle scomode testimoni e quando tutto verrà alla luce il cardinal Federico Borromeo che era cugino di San Carlo Borromeo e Federico Borromeo diventa quello che diventerà famoso poi per la peste manzoniana scopre interroga Virginia lei prende le distanze di Giacomo Osio dice semplicemente che tutta la storia è legata a un maleficio che lei non avrebbe mai voluto indulgere i piaceri della carne o avere due figli ma è stato il diavolo a tentarla e a questo punto la cosa tremenda è che cosa succederà della monaca di Monza della monaca di Monza succederà che viene praticamente murata viva in una stanza di due metri e mezzo per un metro e mezzo dove vengono chiuse anche le inferiate che danno luce c'è soltanto uno spioncino da cui lei riceve il cibo ci resta 13 anni ci resta 13 anni i particolari sono terribili perché le viene cambiato il pagliericcio due volte l'anno e gli viene svuotato il pitale una volta alla settimana quando esce 13 anni dopo ha praticamente 45 anni e cosa che uno psichiatra non trova strano comincia a riferire di avere allucinazioni visive di parlare con gli angeli la madonna eccetera eccetera Federico Borromeo è molto ma molto scettico va a parlarci non le crede poi sembra ci sia un particolare che lo colpisce molto il fatto che questa donna 13 anni dopo essere stata reclusa murata viva abbia chiesto di continuare a vivere sempre in quella stanza di non lasciarla per un'ala più sana più più e poi quello che colpisce Federico Borromeo è il fatto che la tonaca che indossava era ancora quella con cui era stata murata viva 13 anni prima e allora Federico Borromeo chiederà alla monaca di Monza di diventare la portavoce presso tutte le converse che hanno peccato o comunque hanno commesso degli errori della parola di Dio e quindi sopravviverà la monaca di Monza altri 30 anni e di lei ci si ricorderà poi ma non nelle cronache perché poi noi ci basiamo su quello che ci ha raccontato il Manzoni passerà poi alla storia religiosa come una delle più grandi esempi di misticismo cattolico e con questo bel racconto terribile di una celletta di due metri e mezzo per uno e mezzo con un solo buco per un solo spioncino mi fermo qua se avete domande grazie vabbè poi naturalmente abbiamo parlato di lupi mannari vampiri anche lì molto spesso dietro alle mezze falsità ci sono delle storie vere però ecco diciamo che vi ho raccontato quella che per me mi sembra è sembrata mi è sembrata è sembrata che a Carlo Lucarelli la più improbabile è quella della pelle indossata l'acqua tofana perché a me la manna di San Nicola mi è sembrata un'idea assolutamente rivoluzionale gente che 500 anni fa a posto di scrivere L'Oreal ha messo ma il problema è che la genialità non nasce soltanto dalla manna di San Nicola il problema è che questa aveva capito che la carriera di una prostituta era breve per cui prima ancora di pensare di vendere la manna di San Nicola aveva pensato di vendere i belletti e le ampolle di trucchi di San Nicola quindi però non poteva ovviamente farla franca ah no c'è un'altra storia legata all'ultima alla manna di San Nicola la prima velenatrice seriale della storia conosciuta è una certa locusta che ha operato nel 50 dopo Cristo assunta da Agrippina per far fuori il marito Claudio e naturalmente la nostra locusta non si sa che tipo di veleno utilizzasse sicuramente di origine vegetale perché all'epoca i derivati minerali come l'arsenico erano difficilissimi da maneggiare che cosa fa la nostra locusta suggerisce di aggiungere un veleno terribile tra le altre cose sapete quali sono i due veleni di più rapido riscontro così almeno se domani li teniamo su li trovate nei vostri giardini per cui ve lo dico per cui state attenti le bacche di tasso e i semi di ricino se ci sono due cose che si trovano in natura comunemente non si sa che cosa ci metta invece l'ocusta la velenatrice ma sa che Claudio è golosissimo di funghi e quindi funghi dal sapore deciso il problema è che Claudio e anche qui abbiamo sempre risvolti drammatici è un po' comico bizzarre Claudio è un un gozzovigliatore straordinario per cui gli servono questo pasto avvelenato e lui si strafoga al punto che quando arrivano i funghi non ce ne sta più per cui lui si mangia i funghi e li vomita è il risultato finale che l'ocusta la velenatrice si era fatto a un piano B aveva corrotto il medico secondo voi cosa aveva chiesto e detto al medico una volta avesse rischiato Claudio di avere un malore che si doveva intervenire subito con un estratto di funghi avvelenati per clistere per cui Claudio sarebbe andato via grazie all'ocusta la velenatrice quel che non era stato possibile da una parte era successo dall'altra e questa però con questa veramente finisco perché poi si narra che l'ocusta la velenatrice fu trovata scoperta scovata giustiziata attraverso una violenza sex da una giraffa nel circo Massimo che mi sembra una roba insolita anche questa però su questo mi limito a citarle fonti francamente come come si è potuto accadere comunque la tradizione vuole che una giraffa abbia poi ucciso l'ocusta la velenatrice grazie ancora a Massimo Piccozzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti